la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon martedì a tutti ben trovati con il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa di Uno News, sfogliamo le pagine dei quotidiani, vediamo quali sono i principali temi trattati dai giornali in edicola questa mattina, partiamo dal mattino in apertura si parla del ricorso al MES, del ricorso ai fondi, al fondo salva stati e per quanto riguarda anche la suddivisione dei fondi vediamo che ancora una volta si rischia la beffa per il sud perché gran parte dei fondi sono destinati poi invece al nord quindi le aree più colpite vediamo infatti il titolo fondi dell'unione europea rischio beffa al sud la bozza della ripartizione del MES favorisce il nord l'ite tra PD e Movimento 5 Stelle per l'utilizzo ricordiamo che il partito democratico spinge verso il ricorso al fondo salva stati l'ira di De Luca uno scandalo la campagna è penalizzata al di là di ogni limite e torneremo su questo argomento anche nelle pagine successive le pagine di primo piano andiamo avanti troviamo qui l'intervista del mattino Berlusconi non utilizzare il salva stati e sfregio all'Europa lista nessun veto della Lega Cesaro si ritira perché deve affrontare l'inchiesta queste le parole di Berlusconi andiamo avanti lo sblocca cantieri a patti senza gare ricorsi al tar scontro nel governo e poi ieri il leader della Lega è stato a Mondragone ricordiamo il la città che è stata colpita negli ultimi giorni da un focolaio partito dal da un palazzo un palazzo dove risiedono per lo più persone di origine bulgara vediamo Salvini nel caos di Mondragone saltato il comizio ma assicura tornerò ricordiamo che tra le contestazioni c'erano anche tante persone che invece sostenevano il leader della Lega e chiedevano proprio il nuove una novità una ventata di novità per quanto riguarda proprio la situazione che si vive a Mondragone infatti erano state comunque raccontate delle situazioni anche di paura per gli abitanti di Mondragone ma andiamo avanti e cambiamo totalmente argomento perché andiamo a centro pagina ieri bellissima notizia per la campania perché nello sport il Benevento conquista con sette turni di anticipo la serie A quindi torna dopo due anni in serie A grandi festeggiamenti seppur comunque in maniera ridotta sempre a causa delle norme di distanziamento sociale ma ieri comunque grande festa per il ritorno in serie A e vediamo che anche il mattino celebra la data vediamo bentornato Benevento, mister Inzaghi volevo vincere abbiamo fatto la storia ricordiamo sette giornate di anticipo è bastato un gol per riuscire a raggiungere la promozione. Ancora a centro pagina cambiamo argomento però torniamo a parlare dell'emergenza Covid vediamo la proposta dello scienziato Garattini le vittime meritano una commissione sugli errori da Covid deve essere composta da saggi indipendenti Bergamo hanno prevalso ragioni economiche le parole del presidente Mattarella Bergamo sono state forti e struggenti bisogna riflettere sugli errori commessi in questa pandemia per non ripeterli Mattarella ha centrato il problema ora serve una commissione indipendente di saggi è un atto dovuto alla società Silvio Garattini decano di farmacologi aggiunge a Bergamo hanno prevalso ragioni economiche e poi il caso autoblu altro che tagliare in cinque anni sono aumentate sono ben tremila in più andiamo ora di taglio basso vediamo come chiude la prima pagina del mattino nazionale l'ex pilota nuovo intervento al cervello le ore disperate di Zanardi le condizioni purtroppo restano gravi dopo l'incidente in handbike ancora le prime pagine andiamo ora sulla prima pagina del mattino di Salerno vediamo quali sono i principali temi invece trattati dal quotidiano a centro pagina assedio rifiuti più controlli l'ambiente lo scempio di scarica cielo aperto in centro i commercianti non date la colpa soltanto a noi allarme igiene dopo gli incivili della Movida arrivano i diportisti con i cumuli non differenziati nella fotonotizia spiagge e carnaio rivolta dei bagnanti SOS dalla Baia a Pastena così torna il virus mentre troviamo poi anche l'intervista per Salerno Pulita barre locali non rispettano più le regole il problema vero non è il servizio svolto da Salerno Pulita per quanto riguarda la questione rifiuti che come dico spesso è sempre migliorabile ma la scarsissima collaborazione che una parte di cittadini ed esercenti sta dimostrando non rispettando le regole di differenziazione e conferimento dei rifiuti sono queste le parole di Antonio Ferraro amministratore unico di Salerno Pulita andiamo in alto ancora Serie B abbiamo parlato del successo del Benevento che raggiunge la promozione in Serie A ma parliamo ora anche della Salernitana perché ieri sera nella gara di Serie B contro la Cremonese una gara a Caldiopalme è stato raggiunto un pareggio un pareggio meritato dalla Salernitana che si ferma sul 3-3 vediamo pazza Salernitana all'inferno e il ritorno ma il pari però non basta un punto acciuffato in extremis con Di Tacchio Ventura resta ottimista ho visto segnali positivi doppio svantaggio recuperato poi ancora Cremonese avanti rigore del capitano al 96esimo e alla Rechi si raggiunge il risultato del 3-3 per le notizie di Spalla la scuola Prof dal Nord doccia gelata rientra solo 1 su 10 doccia gelata sui docenti titolari delle scuole del centro nord Italia che chiedevano il trasferimento a Salerno al Via Libera a tornare a casa solo un professore su 10 commercio mercato torrione a banconisti e i banconisti su piedi di guerra ingressi a rischio vediamo di taglio basso il concerto dell'amicizia che i rubini salernitani nel segno di muti domenica è il grande evento a Pestum per le fotonotizie l'agguato di Angri attentato a Chiavazzo un'esecuzione mafiosa e poi le grandi opere da battipaglia a Potenza la ferrovia riunisce l'Italia questa è la prima pagina del mattino di Salerno andiamo sulla città vediamo case e negozi il virus degli affitti onda spratti per morosità allarme criminal poll chance per i clan questo il titolo di apertura nella fotonotizia cava i sigari toscani le mani delle donne nel business e poi l'intervento della regione crisi strutture turistiche arriva il bonus da 24 milioni per le notizie di fondo Angri agguato a Chiavazzo per zuccherino aggravante camorra nocera inferiore l'ite condominiale a Colterloi vicino dieci anni di carcere a eboli neomelodici sul palco per festeggiare la zarina dello spaccio andiamo di spalla Salerno i cafoni dei rifiuti attivi e impuniti e qui vediamo i cassoni pieni di spazzatura anche abbandonata ai lati della strada per la giustizia il tribunale riapre è già un'incognita e poi Salerno il cavillo salva copp sul verde pubblico andiamo in alto sotto il titolo di testata Salernitana cremonese finisce 3 a 3 Granata duri a morire un pari in zona Cesarini e poi di taglio basso la politica Corsa Rosa per guidare Pagani Fezza Mattino e Sessa candidate alla poltrona di sindaco la sentenza no antenne telefoniche tuteliamo gli uccelli questi i principali titoli per la città andiamo sulle cronache vediamo che qui si apre parlando della visita del leader della Lega Mondragone lo abbiamo visto anche dal mattino vediamo per le cronache Salvini scappa da Mondragone Cesaro scappa da Salvini figlio di Gigino a Pulpetta fa un passo di lato e non si candida oggi Caldoro prova a mettere insieme i cocci del centrodestra andiamo avanti Salerno in ricordo di Andrea l'associazione di solidarietà e poi la salernitana evita la sconfitta ma continua a perdere colpi in classifica che renderebbe duro la promozione in serie A Ventura pensa ai playoff così nulla c'è precluso Valzer del gol alla Re chi finisce 3 a 3 con la Cremonese andiamo di fondo verso le regionali Monica Paolino sono indagata ma resto una persona pulita e poi al liceo Tasso Sant'Arcangelo garantiamo la frequenza di quasi tutte le nostre classi a Pagani infine Fratelli d'Italia Candida Fezza il centrodestra si divide in tre parti questi titoli per le cronache lasciamo le prime pagine torniamo ora sul mattino nazionale ed andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo appena visto in particolare il titolo di apertura del mattino nazionale parliamo dei fondi del MES ricordiamo che il PD spinge per il ricorso al MES ma abbiamo visto sarebbero fondi che comunque sarebbero destinati per gran parte alle regioni del nord quindi ancora una volta la campagna e l'intero meridione sarebbe penalizzato dall'arrivo di fondi dalla suddivisione dei fondi vediamo le spine dei giallorossi sul MES si alza la tensione Movimento 5 Stelle non cambiamo idea LPD miopi e ideologici zingaretti impressing basta tergiversare indica dieci filoni finanziabili grazie all'Unione Europea Crimi ora teme che il movimento si spacchi dagli alleati modi non adeguati a questa fase Conte respinge le critiche di immobilismo oggi nuovo vertice sulle misure economiche sul prolungamento del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione forti perplessità di Italia Viva vediamo i temi che dividono la maggioranza l'Europa il tema che crea le maggiori tensioni in questo momento è quello del MES il fondo europeo destinato a finanziare le spese sanitarie che abbiamo visto per gran parte sarebbero comunque destinate al nord la giustizia per ora le tensioni sono sotto traccia ma è il tema del blocco della prescrizione che prima del covid era l'ordine del giorno è destinato a ripresentarsi e poi le economie importanti partite economiche sono ferme come quella di autostrade all'Italia e Ilva sulla prima il governo è chiamato a decidere in tempi stretti e anche qui c'è la divisione poi regionali a settembre si vota in sette regioni considerando anche la Valle d'Aosta e molti comuni capoluogo fra i quali Venezia il PD punta ad un'alleanza organica con i 5 Stelle anche nelle regioni ricordiamo che la campagna è quindi insomma sotto con vista con attenzione proprio per questa situazione perché ricordiamo in campagna Movimento 5 Stelle e PD corrono divisi il Movimento 5 Stelle non vuole De Luca come candidato alla presidenza della regione campagna vediamo cosa accadrà anche in futuro anche se ormai sembrano definiti i candidati alla presidenza per la campagna andiamo in basso Conte prova ad accelerare sul DL e teme l'ipotesi governo di Maio chiudiamo questa pagina torniamo restiamo però sul tema del riparto dei fondi dell'Unione Europea il MES che comunque pagheremmo tutti ma ancora una volta ad essere maggiormente penalizzati dalla divisione dei fondi è proprio il Meridione perché al sud arriverebbero ben poche risorse del MES mentre gran parte sarebbero destinate al nord una suddivisione che vede il PD insomma comunque in prima linea perché ricordiamo è proprio il Partito Democratico che punta al ricorso al MES tanto insomma abbiamo appena visto tanto da dividere anche il governo vediamo il titolo e il riparto che penalizza il sud De Luca scandalo indecoroso le bozze sui fondi al Ministero della Salute favoriscono il nord il 19% dei fondi andrebbero alla Lombardia il governatore campagna penalizzata se così ricorreremo alla consulta queste le parole anche se ieri sera dal suo profilo Facebook aveva annunciato e aveva insomma dichiarato una una sua positività verso il ricorso al MES che insomma auspicava anche da parte di tutte le forze politiche proprio l'arrivo insomma di questi fondi dell'Unione Europea pare quindi a questo punto che abbia cambiato idea andiamo avanti il fondo sanitario già penalizza ogni campano rispetto alla media nazionale 45 euro in meno le tre più grandi regioni del sud con la mortalità più elevata la quota dei fondi è la più bassa e poi in basso troviamo l'intervista a Paolo Scudieri abbiamo contenuto meglio l'epidemia ora più fondi per rafforzare gli ospedali Confindustria sbaglia con questo governo si può ragionare la riserva del 34% è una perversione numerica chiudiamo questa pagina e andiamo avanti andiamo sulla pagina dello sport perché la prima pagina dello sport del mattino è dedicata proprio alla vittoria del Benevento che ieri con sette giornate di anticipo contro la Juve Stabia vincendo per 1 a 0 si aggiudica si assicura soprattutto il ritorno in Serie A dopo due anni vediamo il titolo Benevento finalmente è A i giallorossi battono la Juve Stabia con un gol di Sau nel vigorito senza tifosi e conquistano la promozione Inzaghi avevo un debito d'onore con questa società volevo vincere non pensavo che avremmo fatto la storia andiamo avanti giro di campo nello stadio vuoto poi il gruppo raggiunge il centro per gli applausi della tifoseria Mantipò l'eterno maggio in signe due segreti di una squadra invincibile che comunque resterà non cambierà tantissimo almeno dalle parole del direttore sportivo del Benevento in vista della serie A e con questa pagina ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torneremo tra pochissimo restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra segna stampa andiamo sulle pagine della provincia di Salerno del mattino e di Lecronag per vedere quali sono i principali argomenti che interessano il nostro territorio partiamo dal mattino e parliamo dell'emergenza per quanto riguarda il turismo ma soprattutto dell'emergenza spiagge lo abbiamo visto anche dalla prima pagina grande affollamento sulle spiagge e c'è preoccupazione per un possibile ritorno del coronavirus vediamo spiagge carnaio è rivolta così siamo a rischio virus questo il titolo bagnanti arrabbiati nessun controllo e distanziamento zero dalla baia a passe negli under 18 al mare senza regole sono solo gli anziani ad avere paura e poi qui vediamo le immagini sempre per il turismo andiamo a Pertosa Auletta riaprono le grotte di Pertosa Auletta vediamo Pertosa le grotte riaprono dopo 115 giorni misure anticontagio e ambiente tutelato da domani dopo 115 giorni di chiusura riaprono le grotte di Pertosa Auletta pronte ad emozionare i visitatori con le loro bellezze archeologiche naturalistiche e a porsi come centro d'eccellenza di ricerca e formazione e valorizzazione in basso andiamo a Torrione furia banconisti mercato poco sicuro pochi controlli all'ingresso e percorsi non tracciati il comune apra il secondo cancello chiudiamo questa pagina andiamo avanti restiamo sempre sulle pagine del mattino e parliamo ora invece della scuola in particolare per ciò che riguarda il rientro nel salernitano dei prof che sono stati costretti a trasferirsi per motivi lavorativi nel centro nord vediamo che nonostante le richieste per un rientro a casa pare che saranno potrebbero essere pochissime le richieste accolte vediamo infatti il titolo prof beffati rientra solo uno su dieci bocciate dal cervellone elettronico oltre 3.000 domande di trasferimento 350 docenti potranno tornare nel salernitano insegnanti in cattedra dal Lazio in su anche per tutto il 2021 ora in tanti puntano sulle assegnazioni manuali gestite dal MIUR ancora a scuola pretesti in aula per i privatisti maturità noi discriminati prove scritte a luglio esame solo a settembre ma c'è il salvagente 573 candidati potranno partecipare a concorsi e selezioni universitarie in basso questione case di cura rischio posti di lavoro ammalati e terapie amministratore e sindacati di Villa dei Fiori Angrisani 15.000 prestazioni in meno e 500.000 euro di danni distretto chiesta all'Asla una commissione di inchiesta chiudiamo questa pagina restiamo sempre sulle pagine del mattino nazionale del mattino di Salerno scusate andiamo ora sulle pagine della provincia di Salerno in apertura andiamo a Battipaglia vediamo Battipaglia potenza 15 milioni per la ferrovia che vuole riunire l'Italia iniziati i lavori destinati a migliorare l'affidabilità della linea interventi su ponti gallerie e altre stazioni di contursi e sicignano sono ufficialmente iniziati ieri mattina i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Battipaglia potenza metaponto che riporteranno la capitale della Piana del Sele al centro del trasporto di tutto il sud Italia i lavori realizzati dalla società del gruppo ferrovie dello Stato la rete ferroviaria italiana dovrebbero durare secondo le previsioni circa 60 giorni la criminalità droga e arma in casa preso a Pugliano e poi il degrado andiamo a Eboli piazza in balia di Barboni e Puscher SOS a Eboli senza tetto e spacciatori nei dintorni di piazza Pezzullo torna a far parlare di sé la seconda piazza più importante del centro di Eboli dove i residenti le ultime settimane hanno dotato movimenti sospetti stavolta non parliamo della superficie dell'area teatro recente dirisse movita all'inizio della fase 2 del coronavirus ma i cittadini hanno portato l'attenzione su ciò che accade al di sotto della piazza infatti questa agora è stata progettata su due piani quello superiore come una normale piazza e quello inferiore come un box garage messi in vendita nel corso del tempo a Camerota andiamo in basso via al camping della pineta il consiglio di stato vince il comune poi Castellabate per due lidi scattano sigilli e denunce le notizie di spalla Campania centro omaggio a Petrone ok al bilancio utili per 4 milioni ad Aquara roga l'uliveto del sindaco a Aquara caccia al piromane ha piccato il fuoco di un uliveto di proprietà del sindaco il direttore generale della BCC di Aquara Antonio Marino indagini in corso dei carabinieri diretti dal maresciallo Malandrino a dare l'allarme il proprietario di un'abitazione sita nei pressi del podere che dopo aver udito un'auto allontanarsi a tutta velocità e accortosi delle fiamme ha allertato il sindaco hanno incendiato parte del mio uliveto in località Galvezulo per fortuna la nostra protezione civile è stata dotata di recente di un modulo antincendi boschivo fornito dalla comunità montana che è quindi intervenuta sull'incendio chiudiamo questa pagina e chiudiamo il quotidiano il mattino andiamo ora sulle crone che parliamo in apertura del turismo parliamo in particolare della riapertura dell'hotel del polo nautico ma con critiche verso il governo da parte del gestore vediamo riapre l'hotel del polo nautico Elardi turismo governo assente nella settimana successiva sarà operativo anche il ristorante Pepe Nero la struttura del lungomare Cristoforo Colombo sarà a disposizione dei cittadini per soggiorne al centro di Salerno ancora in corso i lavori di riqualificazione della terrazza sul mare andiamo in basso l'iniziativa 10 carcerati diplomati grazie all'istituto virtuoso di Salerno la presentazione a breve all'incontro parteciperà il direttore del carcere Rita Romano e chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sulle pagine di Le Crona che andiamo sulle pagine della provincia di Salerno andiamo a Gifoni 6 Casali vediamo centro storico abbassata l'aliquota IMU saranno circa 1500 i contribuenti che quest'anno avranno un significato un significativo abbattimento nei costi a Camerota marchio covid free fa esplodere le spiagge boom di turisti la giunta pronta a varare l'avviso andiamo a Levano sul Tusciano a centro pagina il Tusciano Village apre i battenti dall'estate 2020 una vasta area immersa nella natura lungo il corso del fiume Tusciano ad Agropoli è la settimana del metro del mare si parte il primo luglio tra le località cilentane con il maggior afflusso ci sono anche Acciaroli Pisciotta e Palinuro mentre a Rocca d'Aspide nuovi distintivi di grado e vigili urbani si è celebrata ieri mattina presso la sala giunta del comune di Rocca d'Aspide la cerimonia di conferimento dei nuovi distintivi di grado al personale di polizia municipale assegnati con decreto sindacale ad ufficiarla il sindaco Gabriele Iuliano e l'amministrazione comunale tutta chiudiamo questa pagina andiamo avanti sempre sulle pagine di Le Cronache vediamo ancora le notizie dalla provincia di Salerno il caso ad Aquara l'abbiamo visto anche dal mattino incendiato l'uliveto del sindaco Marino evidente la matrice dolosa delle fiamme a dare l'allarme è stato il proprietario di un'abitazione sita nei pressi del podere a Ispani irregolarità nelle collaborazioni esterne recesso con due tecnici la decisione del commissario a Sassano invece un incontro formativo sui prossimi bandi europei la tavola rotonda è stata promossa dalla Proloco infine andiamo a Laureana Cilento scusate tutto pronto per la riapertura del nuovo edificio scolastico una struttura sicura antisismica e con un efficiente sistema di isolamento termico e con questa pagina di Le Cronache chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 13.45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito